buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vediamo due oculari chiamati oculari d'orologiaio sono oculari che possono essere usati anche in altre situazioni sono lenti di ingrandimento la lente in vetro ed è di qualità per osservare normalmente si mette la lente la parte non dove c'è la lente ma la parte opposta dell'occhio quindi proprio un oculare che viene messo nell'occhio e si osserva l'oggetto abbiamo vari ingrandimenti in questo caso abbiamo una lente da 2x e una da 6x con la lente da 2x starò più distante dall'oggetto mentre con una lente da 6x andrò più vicino all'oggetto da osservare ecco facciamo delle prove la lente in vetro e questo un oculare d'orologiaio osserviamo una batteria con le scritte e stiamo usando quello che sta più distante questo qui mentre questa è la lente più forte un 6x andare più vicino lente in vetro oculare d'orologiaio grazie per averci seguiti alla prossima